Magari il tipo era venuto a comprarci una dose e ha avuto problemi col pusher. Contatti con questo peluche ne abbiamo? Che? Eh? Pusher? Col peluche. Quindi sarebbe un omicidio? Sarebbe un omicidio perfetto. Però intanto io devo stare qui dentro. No, adesso vi portiamo ai pizza. Mi faranno capo della polizia. D'Italia? No, del Congo belga. A cosa stiamo lavorando? Stiamo? Ti sento a un inforzi? Sì, più o meno. Vedremo. Pasquale, lascia verde. Possiamo perdere? Sì. Se permesso! E non batti piatto neanche per sbaglio, vero? Già guarona mia! Ma questo è proprio scemo. Prova di una vera tosa! Ma chi è a quest'ora? Massimino, sei lì? Massimo? A me che ci si improvvisa padre dalla sera alla mattina? Va bene. A parte un pelino, a me. Chi mi rimane? Non chiamarlo un pelino. Un pelino! Tanto... Prima o poi si deve svegliare, no? No? O... M... T... G... M... a i a che la batalla mi fai pena pena grazie mi veniva la parola mi veniva schifo ma mi sa che è stato chiesto va bene un misto pena schifo dai Grazie a tutti